Tabata con plank e salto un esercizio con la massima intensità un breve riscaldamento 4 minuti di tabata plank e salto e 4 minuti di defaticamento ora vediamo come eseguire correttamente l'esercizio plank e salto, vediamolo insieme posizione di mezzo squat fuori l'aria, vado in appoggio con le mani a terra contraggo bene l'addome e faccio un balzo vado nella posizione plank in questa posizione non abbandoniamo il bacino verso il basso o inaltiamo molto la schiena testa, schiena e gambe su unica linea contraggo l'addome, rientro in posizione centrale e salto facciamolo due volte insieme giù, 1 su giù, 2 su durante i 20 secondi di tabata massima intensità buon allenamento iniziamo il riscaldamento distensione laterale destra distendi bene il braccio 5 4 3 2 1 cambia, incrocio braccia gambe ancora qualche secondo 5 4 3 2 1 cambio ora distensione laterale sinistra braccio braccio sopra la testa e piede sinistro a 45 gradi 5 4 3 2 1 via jumping check facciamo salire il cuore coordina bene il movimento 5 4 3 2 1 cambio skip alto porta sulle ginocchia non scaricare sui talloni e non andare veloce 5 4 3 2 1 via saltella sul posto e porta i talloni al gluteo tieni un ritmo basso siamo ancora nel riscaldamento 5 4 3 2 1 ok ora scendi la fondo laterale e mano al piede opposto il ginocchio non supera la punta del piede ancora qualche secondo 5 4 3 2 1 cambio slaggio frontale gamba sinistra piega leggermente la gamba d'appoggio e cerca di toccare il piede ancora 10 secondi e cambiamo gamba 5 4 3 2 1 cambia gamba ora slancia la destra movimento lento e controllato ci stiamo riscaldando se non arrivi al piede tocca la caviglia 5 4 3 2 1 jumping check ultimi 3 esercizi poi iniziamo la sessione tabata riscaldati bene ma non forzare troppo non devi affaticarti ancora 10 secondi e passiamo al mezzo squat 5 4 3 2 1 cambia mezzo squat gambe divaricate e scendi non inarcare la schiena e fai una piccola discesa devi sentire lo sforzo su gambe e glutei 5 4 3 2 1 ultimo esercizio aumenta il ritmo porta i talloni ai glutei durante la sessione tabata massimo controllo del movimento e massima intensità se perdi il controllo del movimento fermati pronta? 5 4 3 2 1 via primo round sumo squat mani a terra plank e gambe divaricate torni e salti massima intensità recupera recupera via secondo round massimo controllo sul movimento nel plank non scendere troppo con il bacino respira terzo round via quando salti tieni il busto leggermente inclinato in avanti recupera recupera e respira recupera e respira via siamo a metà quarto round non perdere il controllo del movimento non perdere il controllo del movimento esegui bene l'esercizio recupera ne mancano altri quattro quinto round via giù plank su salto tieni duro recupera e preparati per il stesso round sesto round sesto round respira sempre durante l'esercizio controlla il bacino quando sei a terra recupera ne mancano solo due penultimo round penultimo round vai tieni duro massimo controllo e massima intensità recupera recupera dai che sei alla fine recupera dai che sei alla fine ultimo round dai il massimo movimento pulito e massima intensità movimento pulito e massima intensità respira profondamente la sessione di tabata è terminata ok iniziamo il defaticamento calciata e glutei lenta continua e respira continua e respira cambia step touch calciata fallo lentamente e recupera con profondi respiri 5 4 3 2 1 cambio incrocio braccia gambe calciata ora il fiato sta tornando a livelli normali continuo in movimento lentamente 5 4 3 2 1 ok gambe divaricate posizione di mezzo squat ispira e inarca la schiena fuori l'area e crea una curva con la colonna 5 4 3 2 1 cambio facciamo lo skip alto per 30 secondi lentamente porta la mano al ginocchio cerca di fare bene il defaticamento ancora 10 secondi 5 4 3 2 1 ora gambe divaricate e fai dei lunghi respiri coordina braccia e respirazione inspiro e porto sulle braccia espiro e porto giù le braccia 5 4 3 2 1 cerca di stare in equilibrio e prendi con la mano il piede sinistro continua a respirare profondamente 5 4 3 2 1 cambia gamba prendi la destra e mantieni l'equilibrio altri due esercizi e terminiamo 5 4 3 2 1 cambia gambe divaricate scendi e cerca di toccare a terra o dietro le caviglie 5 4 3 2 1 ultimo esercizio posizione di mezzo squat inspira e inarca la schiena fuori l'aria e crea una curva con la colonna ancora qualche secondo 5 4 3 2 1 il tuo allenamento tabata è terminato 5 2 2 3 5 6 5 6 6